Bentornato Goodyear, bentornata! Continuiamo nella descrizione del tuo desktop. Hai conosciuto la barra delle applicazioni, ora dobbiamo interagire con essa. La personalizzazione ti permette di cambiare la struttura delle barre del tuo computer. Alcune azioni le ho già evidenziate in precedenza. A mio avviso la barra che sarà più utile personalizzare è principalmente quella delle applicazioni. Cliccando con il pulsante destro del mouse sulla barra si genererà un menu con il quale potrai alterarne la struttura. Infatti puoi vedere che si crea un menu che evidenzia alcune opzioni. Ad esempio qui puoi vedere, evidenziato, blocca la barra delle applicazioni. Quindi puoi togliere o selezionare questo segno di spunta. Se blocchi la barra delle applicazioni, quindi se applichi il segno di spunta, non avrai la possibilità di spostare la barra delle applicazioni lungo i quattro lati del desktop oppure ti sarà inibito anche ingrandire o diminuire, se l'avessi già ingrandita, la barra stessa. L'opzione proprietà invece del menu precedentemente visto ti permette di evidenziare alcune caratteristiche della barra delle applicazioni e del menu start e ti permetterà proprio di cambiarne alcune di queste impostazioni. Puoi vedere la funzione blocca appena descritta o nascondi automaticamente o usa icone piccole. L'opzione nascondi ti permette di togliere dalla visione la barra delle applicazioni se il mouse non transita sulla stessa, quindi avrai più spazio visivo per il tuo desktop. Non appena il mouse si presenterà nella zona dove risiede la barra delle applicazioni, ricomparirà immediatamente. L'opzione invece di rimpicciolamento delle icone ti permette di ridurre le dimensioni delle icone stesse se hai molte icone avrai così icone più piccole ma la possibilità di vederle totalmente senza ingrandire la barra delle applicazioni. Una piccola chicca che ti permette di ridimensionare le icone del desktop in maniera rapida Parcheggia tutte le finestre aperte tramite il pulsante mostra desktop in modo da vedere soltanto le icone. Ora tieni premuto contemporaneamente il tasto CTRL della tastiera e agisci sulla rotellina del mouse ON, AVANTI o INDIETRO. Vedrai incrementare o decrementare la dimensione dell'icone del desktop. La stessa operazione la vuoi ripetere dopo aver avviato un qualsiasi programma. Ciò produce un incremento o un decremento di zoom nella visualizzazione della finestra che hai aperto in quel momento. Come visto in precedenza, da questo menu potrai decidere dove ubicare la barra delle applicazioni. Potrai anche decidere se combinare o meno l'icone presente sulla barra delle applicazioni da questo menu che si genera. Questo significa che potrai ridurre lo spazio di visualizzazione delle icone stesse, riducendole o semplicemente ad icona grafica o con l'aggiunta anche di una descrizione del nome del programma. Nella sezione menu start, invece, puoi trovare l'opzione riferita alla pressione del pulsante di accensione e spegnimento del PC. Infatti, da un menu che si crea, puoi scegliere quale azione creare all'atto della pressione del pulsante di accensione e spegnimento. Lascerei a resta il sistema. Questo comporta che all'atto della pressione del tasto di accensione, il computer si accenderà e quindi avvierà la procedura di caricamento del sistema operativo. Se premi lo stesso pulsante, quando il computer è acceso, si avvierà la procedura di spegnimento automatico senza che tu esegua manualmente tale operazione. Il pulsante personalizza, invece, ti permette di personalizzare l'aspetto ed il comportamento di collegamenti, icone e menu. Dalla lista che si presenta, potrai sbizzarrirti nello smanettamento. Non preoccuparti in quanto non puoi creare danni dallo stesso, ma lascerei per il momento la trattazione di queste opzioni molto ampie. Veniamo ora alla gestione delle finestre. Quando avvii più programmi contemporaneamente avrai notato che le finestre, se sono massimizzate, quindi a pieno schermo, non si possono evidenziare contemporaneamente, ma l'ultima, quindi l'ultimo programma aperto, coprirà quella e quelle precedentemente aperte. Puoi evidenziarle di nuovo singolarmente cliccando sull'icona che si presenterà sulla barra delle applicazioni, o sarà già presente sulla stessa. Tuttavia avrai la possibilità di vederle, anche se in maniera limitata, però tutte assieme, quindi non massimizzate a pieno schermo. Potrai realizzare ciò dal menu che si genera applicando varie opzioni, come evidenziate da questa lista. Potrai infatti sovrapporre tutti i programmi, o meglio tutte le finestre dei programmi, una davanti all'altra, come puoi vedere da questa immagine. Non vedrai granché se non l'ultima disponibile in visione. Oppure, se vuoi vederne in maniera parziale, però tutte aperte, dovrai cliccare su Mostra. Le finestre in pila, quindi saranno posizionate una di seguito all'altra in maniera verticale. Infine, potrai mostrarle affiancate una adiacente all'altra. Ogni programma, una volta aperto, avrai notato che presenta dei piccoli pulsanti in alto a destra. Questi piccoli pulsanti permettono, nell'ordine di parcheggiare la finestra, e quindi il programma, cliccando su questo trattino basso, parcheggerai, in effetti, la finestra del programma Ultimo Aperto. Oppure, potrai ripristinare giù, o meglio, ridurre manualmente le dimensioni della finestra, cliccando su questo pulsante. Infine, cliccando sulla X, sul pulsante che rappresenta una X, potrai chiudere il programma che stai utilizzando. Se hai cliccato sul pulsante, ripristina giù, ripremendolo, ingrandirai la finestra a pieno schermo. Sempre nella zona alta della finestra, ogni programma che aprirai presenta dei pulsanti ed iconi in numero più o meno grande, a seconda del programma che utilizzerai. Saranno ovviamente diverse in base al tipo di programma, ma in gran parte ricalcheranno le medesime funzioni come uno standard di posizioni e di azioni. Qui, ad esempio, puoi visionare la barra di Word. Nella zona in alto, trovi la barra dei menu con la quale potrai interagire con il programma e realizzare delle funzioni più o meno articolate. Di sotto, trovi la barra degli strumenti con un gran numero di icone che eseguono delle operazioni, anch'esse più o meno complesse, e ti permetteranno un miglior utilizzo del programma stesso. Non ne entriremo ora nel dettaglio delle funzionalità, magari in seguito potremo farlo, ma semplicemente ciò è stato necessario per renderti cosciente dell'esistenza di queste icone in ogni programma che aprirai. Sul desktop avrai notato la presenza del cestino. Se nella vita reale hai un foglio che non ti serve più, cosa fai? Lo stracci l'oggetto in un cestino fisico. Come puoi eliminare qualcosa di virtuale, quindi formato da bit che non ti serve più? Beh, lo cessini nello stesso modo più o meno, ma virtualmente. Ossia, in altri termini, attui un'opzione, quindi un comando, che ti permetterà di eliminare dalla visione il file che non ti necessita. Ciò lo realizzi tramite o il tasto Cance presente sulla tastiera, o tramite il pulsante Elimina del menu che si genera tramite il tasto destro. Ciò permette di indirizzare questo file nel cestino. Il cestino altro non è quindi che una porzione più o meno grande del sistema operativo, ancora meglio del disco rigido. Quando si elimina un file, è come se tu trasferissi il file all'interno di questa porzione di disco rigido. Se clicchi rapidamente per due volte sull'icona del cestino, si apre il programma di gestione dello stesso. Qui puoi evidenziare una cartella che è stata cestinata. Grazie a un menu che puoi creare all'interno di questo programma, potrai scegliere delle opzioni. I file presenti saranno inutilizzabili, ma solo visionabili come quantità. In caso di cancellazione involontaria o per qualche errore, puoi semplicemente ripristinare il file o più file nella posizione originaria. Sarà sufficiente cliccare con il pulsante destro per creare questo menu e poi selezionare Ripristina. Saltuariamente è conveniente svuotare il cestino per liberare dello spazio occupato impropriamente da file escorie del sistema operativo stesso ed evitare così di saturare lo spazio riservato al cestino dal sistema operativo. Riguardo lo spazio riservato al cestino, c'è da dire che appena il sistema operativo è stato installato, lo stesso determina una porzione di spazio riservata al cestino, ora parliamo di gigabyte, visto le dimensioni dei dischi rigidi, in proporzione percentuale sul totale della partizione che hai creato e dedicata al sistema operativo stesso. Capisci bene che a questo punto lo spazio dedicato al cestino può assumere dei valori spropositati, visto che oggigiorno le partizioni per i sistemi operativi sono dell'ordine di decine di gigabyte o peggio ancora centinaia di gigabyte. Quindi uno spazio di gigabyte per il cestino risulterebbe sprecato, spropositato. Allora cosa fai? Clicca con il pulsante destro sull'icona del cestino, si genera un menu e seleziona l'opzione proprietà. Nella schermata che si evidenza successivamente, troverai tutte le partizioni che hai creato e nella sezione inferiore per ogni partizione potrai visionare in questa casella un numero in megabyte molto alto. Personalmente fisso questo valore molto basso, diciamo nell'ordine di 100 megabyte per ogni partizione, proprio per non privare le risorse del sistema come dicevo prima. Questo significa che posso cessinare, nel mio caso, dei file per un massimo di 100 megabyte totali o anche singoli, oltre il quale il cestino risulterà pieno e non accetterà altri file, ma ti notificherà che li eliminerà definitivamente togliendoli dalla visione del tuo disco rigido. Se vuoi evitare che si verifichi questa ultima situazione, quindi di saturare il cestino, come dicevo prima, saltualmente clicca sull'icona del cestino stesso e una volta generato il menu, seleziona l'opzione svuota cestino e conferma con un sì alla richiesta di rimozione definitiva. Esiste un metodo più rapido della cancellazione di un file, di uno o più file. Come puoi fare? Nella proprietà del cestino, ti rimando a una figura di qualche slide fa, puoi impostare l'opzione non spostare i file nel cestino, ma rimuovi i file immediatamente. L'azione del tasto Cance o l'opzione Elimina generata dal menu ti permetteranno di cancellare immediatamente il file o più file senza passare per il cestino, quindi non andrai a saturare il cestino in quanto il file verrà eliminato immediatamente. A prescindere comunque da queste impostazioni, hai l'opportunità tramite Tassiera di bypassare tutte le impostazioni e cancellare immediatamente uno o più file senza passare per il cestino. Sarà sufficiente che premi contemporaneamente il tasto Shift o in altri termini il tasto freccinalto definito anche come maiuscolo, quindi premi contemporaneamente il tasto Shift più il tasto Cance o Delete. Sempre in questa schermata puoi anche impostare visualizza una conferma di eliminazione in modo tale che qualora tu dovessi cestinare uno o più file comunque il sistema operativo ti chiede una conferma o devi dare delle cancellazioni involontarie. Puoi togliere questo segno di spunta per ottimizzare l'uso del PC quindi renderlo più rapido, più smart ma comunque fai attenzione a questo punto se vuoi cancellare un file. Sii cosciente dell'azione intendo dire. Per terminare ricordati una cosa ogni opzione che esegui nel sistema operativo ogni impostazione che vai a variare questa impostazione non sarà attiva fin tanto che tu non premi o il pulsante applica o il pulsante ok. Il pulsante applica, come dice la parola stessa applica l'impostazione ma non chiude la finestra che è aperta qualora tu debba eseguire altre operazioni il pulsante ok applica immediatamente le impostazioni eseguite e chiude la finestra del programma che stai eseguendo. Se invece clicchi sul pulsante annulla o sulla X il parametro variato non verrà acquisito quindi di fatto non eseguirai alcune impostazioni. questa è un'opzione da prendere in considerazione per sempre perché è applicabile in qualsiasi momento ed in qualsiasi impostazione. Allora qui abbiamo il tuo desktop con del ligone la barra delle applicazioni l'asistray e l'igona rappresentante il cestino. Come abbiamo detto puoi alterare le condizioni le impostazioni del desktop cliccando in una zona vuota qui abbastanza ridotta con il pulsante destro potrai decidere ad esempio di bloccare la barra delle applicazioni in questo caso non avrai più la possibilità di gestire lo spazio dell'icone e ti inibirà la possibilità di spostare di ridimensionare questa barra quindi è meglio togliere questo segno di spunta se clicchi invece su proprietà si apre una finestra con varie opzioni varie pulsanti il primo pulsante ti permette di bloccare o meno la barra di applicazioni come abbiamo visto l'opzione nasconde automaticamente ti permette di non mostrare la barra delle applicazioni se il mouse non transita su di essa vediamo ad esempio cosa accade se applico l'opzione la barra scompare dalla vista non appena il mouse si ripresenta nei pressi della barra si mostrerà totalmente la barra stessa il pulsante usa icone piccole se applicato ti permette di ridurre le dimensioni della barra delle applicazioni per fare un po' più di spazio come vedi in questo caso cliccando sul pulsante applica applicherò l'opzione selezionata senza chiudere questa finestra se voglio impostare solo questa opzione clicco su ok realizzerò l'opzione selezionata e la finestra del programma si chiuderà da questo menu posso scegliere dove posizionare la barra delle applicazioni come abbiamo visto nella lezione precedente da questo menu potrai scegliere se combinare o meno le icone presenti sulla barra delle applicazioni imponendo anche la presenza del nome del programma stesso oltre all'icona selezioniamo per il momento di non combinare per farti visionare cosa accade tirando su la barra delle applicazioni aumentando incrementando la sua posizione puoi meglio capire cosa intendo dire quindi puoi vedere le icone con accanto il nome del programma selezionando combina sempre vedremo scomparire il nome e verranno visionate soltanto le icone portiamo giù di nuovo la barra per non privare lo spazio di visualizzazione tramite la sezione start puoi impostare l'azione che definirà la pressione del tasso di accensione e spegnimento supponendo di lasciare l'opzione arresta al sistema in modo da poter eseguire la procedura di spegnimento del computer in maniera del tutto automatica senza che tu applichi la procedura manuale per lo spegnimento dello stesso dal menu personalizza si aprirà una lista abbastanza ampia che potrai scegliere di studiare ma per il momento direi di non considerarla in quanto molto ampia la sezione barre degli strumenti ti permetterà di creare una o più barre tra quelle evidenziate oppure come abbiamo visto in precedenza sceglierne una a tuo piacere in modo da visionarle accanto alla barra delle applicazioni puoi rimuoverle tranquillamente deselezionando i segni di spunta se hai diversi programmi quindi finestra aperta contemporaneamente puoi vedere che non è possibile visionarle contemporaneamente allora il menu che si genera tramite il tasto destro nella barra delle applicazioni ti viene in aiuto potrai mostrare le finestre sovrapponendole ma non vedi granché delle stesse oppure potrai decidere di visionare le finestre in pila in modo da poterne visionare una parte ma tutte contemporaneamente oppure potrai visionarle affiancate per una eventuale migliore visione il pulsante mostra desktop ti ricordo parcheggia immediatamente tutte le finestre ogni volta che apri un programma nella zona in alto a destra trovi tre pulsanti che ti permettono di ridurre ad icona il programma stesso che potrai richiamare ricliccando sull'icona stessa oppure ridurre quindi ripristinare nella posizione precedente e magari ridimensionare a tuo piacere la finestra dello stesso rimassimizzare la stessa cliccando di nuovo sul pulsante che avrà cambiato nome in ingrandisci oppure cliccare sul pulsante X per chiudere il programma un qualsiasi programma oltre ad avere i pulsanti di riduzione e chiusura presenta una o più barre qui hai un documento Word che nella zona in alto presenta la barra dei menu che appunto generano dei menu attraverso i quali potrai impostare delle azioni più o meno complesse sotto c'è la barra degli strumenti con un numero di pulsanti abbastanza ampio ma altamente personalizzabile che ti permette di gestire l'uso migliore del documento altra barra la puoi trovare nella zona inferiore in una zona del desktop troverai l'icona del cestino che può avere una dimensione una forma grafica diversa a seconda dei sistemi operativi e che comunque può essere personalizzabile cliccando sull'icona del cestino si apre un menu che ti permette di poterne cambiare il nome o aprirlo ma soprattutto gestirne le proprietà infatti potrai decidere per ogni partizione che è stata generata durante l'installazione o successivamente dicevo puoi impostare il parametro dello spazio del tuo disco rigido dedicato al cestino per ogni singola partizione questo valore l'ho imposto io personalmente a 100 MB perché più che sufficiente per la maggior parte dei file e comunque può essere variato in qualsiasi momento selezionando l'opzione non spostare i file in eccessino ma rimuove i file immediatamente nel momento in cui andrai a cancellare un file o tramite il tasto canc o tramite il comando elimina che trovi nel menu generato dalla pressione del tasto destro sul file stesso dicevo tramite il pulsante elimina potrai eliminare direttamente il file senza passare per il cestino deselezionando questa opzione eviti che il programma di gestione del cestino ti chieda una conferma di cancellazione nel momento in cui tu decidi di cancellare un file lasciamolo selezionato in modo che ti rendi conto di cosa accade durante una cancellazione creiamo una cartella che andiamo a cancellare la cancellazione può avvenire o premendo il tasto canc sulla tastiera una richiesta di conferma è necessaria in questo caso clicchiamo su no oppure possiamo cancellare il file o la cartella dal menu che si genera cliccando con il pulsante destro il pulsante elimina con la successiva conferma sposterà la cartella all'interno del cestino ancora prendiamo una nuova cartella e trasciniamola direttamente ricordo dall'inglese drag and drop direttamente dicevo all'interno del cestino ora cliccando con il pulsante destro del mouse puoi decidere di svuotare il cestino oppure aprirlo per visionare i file o le cartelle precedentemente cestinati qualora tu ti sia accorto ti sia accorta di aver sbagliato nella cancellazione sarà sufficiente cliccare con il pulsante destro del mouse e selezionando ripristina potrai ripristinare il file dove era stato generato ossia sul desktop puoi anche decidere di svuotare dicevo direttamente il cestino da questo menu cliccando sull'opzione svuota cestino una conferma ti permetterà di svuotare definitivamente il cestino come puoi vedere ora il cestino è completamente vuoto puoi trasferire una cartella quindi cestinare una cartella direttamente nella finestra aperta del cestino e cancellarla successivamente ed ora una piccola chicca se vuoi ridimensionare le icone del tuo desktop senza passare per menu alternativi puoi farlo semplicemente premendo il tasto control qui rappresentato grazie a questa tastiera virtuale quindi premi il tasto control della tua tastiera contemporaneamente ruota la rotellina del mouse in avanti o indietro e otterrai un incremento o al contrario un decremento delle icone del tuo desktop in maniera molto rapida nella prossima lezione vedrai altre descrizioni del tuo desktop ora un forte saluto ciao a presto da Carlo e alla prossima ciao a presto ciao a presto ciao a presto ciao a presto